buongiorno a tutti e bentrovati a questo video tutorial questa volta riferito alle gradatorie di istituto di circolo ed istituto del personale ata terza fascia ricordiamo che questa tipologia distanza potrà essere presentata da oggi 28 di maggio fino a il 28 di giugno dunque più di 30 giorni per poter rappresentare questa istanza prima di andare a vedere come si compila l'istanza in sé vi consigliamo di entrare nel sito del ministero dell'istruzione del merito e scendendo sulla sugli approfondimenti andate a gradatorie di circolo ed istituto del personale ata cliccate ed entrate in questa piattaforma delle gradatorie di circolo ed istituto per il personale ata perché riferita al tiegno 24 27 secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 89 del 21 maggio 2024 qui potete trovare tante notizie tante cose importanti da poter consultare e in particolar modo andiamo a vedere sulla voce il percorso cose alcune notizie di fondamentale importanza per questa domanda intanto la presentazione dell'istanza va appunto dalle ore 9 del 28 maggio alle ore 23 59 del 28 giugno 2024 gli aspiranti appunto potranno accedere all'istanza gradatorie di istituto ata terza fascia che sarà sempre disponibile 24 ore su 24 7 giorni su 7 sul portale istanze online ora poi andremo a vedere come si entra su questo portale istanze online e come si accede alla compilazione della domanda dice qui attenzione ti invitiamo a non attendere gli ultimi giorni per compilare l'istanza questa è un'attenzione importante perché magari qualche inconveniente qualche situazione di emergenza poi si perde questa istanza che si può riprodurre fra tre anni cioè nel 2027 ecco la valutazione dei titoli altra cosa importante la valutazione dei titoli avverrà dopo la chiusura dell'istanza sarà una scuola scelta come destinataria della domanda attenzione la scuola polo è la prima scuola scelta destinataria della domanda ad occuparsi della valutazione attribuzione delle supplenze saranno le scuole a convocare gli aspiranti a supplenze a riscontrare le disponibilità ed accertare o meno la proposta di assunzione mediante messaggio di posta elettronica certificata pec o tradizionale istituzionale o privata peo andando sulla voce i primi passi e cliccando sui primi passi ecco vedere come poter avere le direttive principali per la compilazione della domanda vedete abbiamo 6 7 8 9 passi importanti allora i nove passi importanti sono assicurarsi di avere le credenziali per accedere al sistema cioè l'identità digitale speed perché con speed è importante averlo per poter entrare in entrambi i casi occorre essere abilitati al servizio istante online chiaramente se non si abilitati si deve compilare e alcuni dati anagrafici di su istante online per poi avere questa abilitazione verificare appunto i dati di recapito su istante online molto importante per poter avere la domanda compilata leggere attentamente il decreto ministeriale numero 89 del 21 maggio 2024 che potete cliccare da qui consultare con attenzione le tabelle di valutazione per avere contezza del punteggio per la questione riferita agli assistenti tecnici per vedere la corrispondenza fra il titolo le aree laboratori dell'assistente tecnico consultare l'allegato c del decreto ministeriale numero 59 del 26 giugno 2008 dunque fare molta attenzione a questa corrispondenza titoli perché è fondamentale che ci sia una corrispondenza fra il titolo di accesso l'area e il laboratorio del del tecnico dell'assistente tecnico raccogliere tutta la documentazione necessaria scegliere le 30 scuole e le 30 istituzioni scolastiche una di queste dovrà essere la scuola destinataria dell'istanza che sarà automaticamente posizionata al primo posto fra le sedi espresse dunque la prima sede delle 30 sedi che si esprime di fatto è la scuola destinataria che andrà a valutare l'istanza si prevede di poter consultare scuole in chiaro per la scelta delle 30 istituzioni scolastiche leggere con attenzione le guide per la compilazione all'istanza oppure dico io seguite con attenzione i nostri tutorial e poi procedere la compilazione dell'istanza facendo clic in questo tasto